Cari amici, caro Tony, caro Cutrufo, c'è un motivo profondo per cui noi siamo qui oggi in questa piazza, in questa giornata. E non è un motivo strumentale, non è un motivo elettorale, non è un motivo soltanto di schieramento. E' un motivo che viene da origini culturali, da identità profonde e che ha un solo nome, che è quello della dottrina sociale della Chiesa. E' su quel versante che tanti anni fa la democrazia cristiana riuscì a sconfiggere i socialcomunisti nel 1948, levandogli tematiche sociali, radicamenti popolari, valori profondi, e su quel versante, su quella cultura che noi, che veniamo alla destra, abbiamo trovato la strada per rendere la nostra destra pienamente democratica, pienamente sintonizzata con quelli che sono i valori popolari. La dottrina sociale della Chiesa ci insegna valori precisi, principi come la sussidiarietà, come la solidarietà, come il rispetto alla persona umana, della famiglia, la famiglia come centro dell'aggregazione sociale. Questi sono gli elementi su cui si è ricostruita l'Italia, su cui si è impedito che l'Italia diventasse l'ennesima colonia dell'impero sovietico e da quella battaglia del 1948, che c'è stato uno spartivacque, che ha tenuto l'Italia nell'Occidente, che ha tenuto l'Italia nella libertà.